Quali sono gli impegni per l'istruzione e l'università? E' una ben precisa scelta di campo. In più ci saranno 15 milioni di euro per l'edilizia universitaria, per rimettere in pristino alcune sedi che oggi magari sono fattiscenti e anche per interventi nuovi. Ed in più abbiamo presentato l'altro giorno un progetto innovativo, si chiama Progetto Marco Polo e prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro, 1 milione e 800 mila euro messi a disposizione dalla fondazione CRT. Questo si tratta di un progetto speciale, di una borsa di studio speciale che vuole premiare il merito e l'eccellenza. Qual è la filosofia? La filosofia è quella di dire che il Piemonte è e deve essere un'opportunità. Fino a poco tempo fa ci dicevano che la Cina era un'opportunità. Io mi ricordo quando per esempio Prodi diceva che noi dovevamo sostanzialmente arrenderci di fronte ai cinesi che producevano e che volevano arrivare nei nostri mercati. Noi oggi dobbiamo dire che invece si può e si deve produrre in Piemonte perché se noi puntiamo sull'eccellenza, sulla qualità dei prodotti, il nostro territorio può e deve essere un'opportunità. Tutte le azioni del Governo regionale si legano in base ad un unico progetto, c'è un unico filo che lega tutte le varie delibere assunte dalla Giunta e lega le azioni del Governo regionale. Abbiamo iniziato con il piano straordinario per l'occupazione, abbiamo proseguito con il piano per la competitività, abbiamo inserito gli stanziamenti a favore dell'università e della ricerca. Noi diciamo sostanzialmente questo, che il Piemonte è forte e il Piemonte può vincere la sfida basata sull'innovazione dei prodotti e sulla qualità degli stessi con le nostre menti e con i nostri ricercatori che ovviamente fanno i prodotti migliori.